Buonasera amici di tutto Udinese. Facciamo subito a capirci. Un milione e duecentomila euro. Beh, è una bella cifra, no? Direte voi. Cosa sono? Beh, sono i soldi che vengono elergiti nell'arco di un anno ai giudici di porta. E questa cifra l'ha comunicata proprio in settimana. Lo chef degli arbitri, Nicchi, aggiungendo peraltro che, viste tali cifre e visti i risultati che finora hanno offerto questi signori, dalla prossima stagione, ed è questa una notizia ufficiale, saranno aboliti. Intanto l'Udinese paga pedaggio, come oggi a Roma contro la Lazio. Pedaggio dell'incompetenza, o della svista se volete, di questo signore che guarda con distacco una partita senza pagare neppure il biglietto. Inducendo, come è successo oggi contro la Lazio, l'arbitro a sbagliare. Già, perché, per il retto figlio, il rigore non l'aveva fischiato. Perché lui, come tutti, il fallo di mano non l'aveva neppure visto. Semplicemente perché non c'era. Ma è stato indotto a similare in virtù del suggerimento maldestro del suo inefficiente collaboratore. E con questo sono quattro. E ma non ve le ricordo tutti, per una questione di salute, mia naturalmente. Detto questo, che non è poco, sul pieno del gioco qualcosa di più oggi si è visto rispetto al Sassuolo e le altre recenti partite. Perlomeno si è lottato qualche sprazio di gioco, ha lampeggiato allo stadio olimpico. E persino Zapata ha mostrato segni di umanità calcistica. Ma in una partita in cui Carnesis, rigore a parte, non ha fatto una parata a una, forse il pari era il risultato più eco, a prescindere da un primo tempo da beach soccer, sia da parte bianconera che da parte laziale. Naturalmente tutti si sono comportati, hanno sudato, hanno la maglia bagnata alla fine i giocatori dell'Udinese, Mato scompreso, che era stato chiamato a sostituire qualche assente. Lo stesso Cums in qualche maniera insomma si è dato da fare. Danilo e Felipe dietro hanno retto molto bene una Lazio piuttosto spenta, diciamocelo, che ha fatto fatica, non ha fatto neppure un tiro in porta, non ha impegnato il nostro portiere assolutamente. Ma vogliamo parlare del francese? Sì, sì, disse il Terro. Comincia a darmi i nervi, ve lo dico subito, non pervenuto, irritante, anche per via dei rimbrotti ai suoi compagni. Gigi dice che bisogna trattarli bene questi giocatori, questo e quell'altro, ma loro guadagnano soldi, vestono una maglia che per me è sacra e quindi io posso permettermi, come tutti voi, di poter criticare e giudicare senza peraltro offendere nessuno. Il francese non c'è. È un peso per questa squadra. Questo è il vero problema in questo momento e Gigi purtroppo credo che lo sappia, ma naturalmente non lo può espressamente dire. È assente Terro con i piedi e con la testa. Ebbene Delneri ha fatto a sostituirlo. Ora però, per cortesia, Gigi lo mando a ossigenarci nei nostri monti dove l'aria è salubre e rigenera velocemente, poi sono di una bellezza unica. Resta il fatto che la Lazio si è ritrovata a tre punti regalati da un arbitro inetto. Non certo da una squadra che meritava ben altra sorte. Onestà intellettuale me lo impone. Se contro il sassuolo alleggiava la vergogna, contro la Lazio la rabbia prende il sopravvento. Abbiamo perso comunque. Ora continuiamo a ringraziare Palermo, Pescara e Crotone. Cominciamo a programmare il futuro invece. È ciò che ha fatto sottolineare e sottintendere Gigi Delneri che, levandosi qualche sassolino, ha detto che il suo impegno è alto e nessuno aveva questo dubbio e che valuterà d'ora in poi chi è meritevole di restare con la maglia dell'Udinese. Sarà un impegno molto importante per lui, ma credo che abbia già le idee chiare perché ci si dovrà impegnare molto e soprattutto credo che si dovrà puntare a rendere l'italiano la lingua ufficiale della squadra. Ne sarebbe proprio ora. Che ne dite voi? Ora avanti con la Juve. Ora avanti tranquilli, sereni, per quanto può essere dopo una sconfitta. Ma soprattutto guardiamo veramente al futuro con acume, con intelligenza. Poi sarà quel che sarà. Sia chiara una cosa per finire, che pare che la Dacia Arena entri nella top ten come stadio fra i dieci stadio più belli d'Europa. Non me ne importa niente. Perché ricordatevi, per me rimarrà sempre in eterno lo stadio Friuli. Il mio stadio Friuli. Il vostro stadio Friuli. Grazie e buonasera.